Allora eccoci qua, come ben sapete quest'anno abbiamo cercato di mettere insieme cittadini, storie concrete, pezzi di paese, problemi veri con chi decide, chi governa, quindi politici, imprenditori, manager, ci siamo riusciti talvolta a avere risposte concrete, in altri casi abbiamo irritato il potere, in altri casi invece hanno giocato un po' lo scaricabarile, hanno dato la responsabilità a qualcun altro, stasera vorremmo cercare con Paolo Miedi di ripercorrere un po' questo viaggio e a proposito del nostro paese, pochi giorni fa il census ha fatto una foto abbastanza diciamo a tinte fosche, siamo un paese che non desidera più, non sogna più, che è immobile in qualche modo, De Rite è stato molto pessimista, cosa che non è di solito tra l'altro perché invece è un sociologo di solito ottimista, quali sono secondo lei i mali che minano l'Italia nel profondo, dovendo ridefinire l'abitamento? Ma guardi, ce n'è uno, soprattutto gli altri, che è un male della fantasia, vede, la fantasia di un paese, la fantasia di tutti gli abitanti di un paese è quella che aiuta ad andare avanti e quando si dice, va bene, sì abbiamo delle difficoltà, le difficoltà ci sono sempre, ma noi sappiamo che le supereremo, sappiamo che la ruota ricomincerà a girare e che se non sarà fra un mese, sarà fra qualche mese, ma la vita si rimetterà in moto. Oggi, l'indagine del Censis lo conferma, abbiamo un difetto di fantasia, la fantasia è come se si fosse rassegnata che le cose continueranno a essere così come sono ed è forse una derivazione anche dalla politica, nel senso che la politica è bloccata, chi tifa Berlusconi o chi tifa contro Berlusconi è quasi rassegnato a che le cose rimangano sempre al punto di partenza. Ecco, ma la politica infatti volevo chiederle, perché la fibrillazione è stata molto alta in questi ultimi giorni, la fiducia, così alla fine il governo sta lì, cioè ha tre voti di maggioranza e pare che vada avanti, ma si può davvero andare avanti con una crisi economica così severa in un paese con una maggioranza che ha tre voti? Sì, io penso che si possa andare avanti anche con una maggioranza di tre voti, perché è stato fatto il paragone con il governo Prodi che aveva due o tre voti di maggioranza, ma mentre il governo Prodi aveva due o tre voti di maggioranza su un corpo molto litigioso, lì sono due o tre voti di maggioranza rimasti dopo un enorme spurgo, cioè si presume che i soldati adesso dice lei. E quelli rimasti sono dei fedelissimi, dei militari pronti. Senta, ma Berlusconi ha già detto che farà scioppi, che natalizio di parlamentari, che ne prevede otto di qua, sei di là, lei che vede? In queste vacanze di Natale avremo delle sorprese? Ma io direi di no, nel senso che sì, qualcuno di futura libertà che può passare c'è, ma io penso che quel discorso lui lo abbia fatto per minacciare questo centro, il polo della responsabilità e costringerlo a venire più miti consigli, cosa che vedo che è accaduta. Cioè la frase di Casini, Berlusconi ci chiede aiuto, secondo lei vuol dire che siamo vicini a un accordo? No, beh, insomma, Casini mi sembra l'abbia messo in modo molto chiaro, come negli Stati Uniti, Obama, che è democratico, chiede ai repubblicani di comportarsi responsabilmente, cioè di votare assieme sulle cose giuste, poi di opporsi magari estrenuamente su tutto ciò che loro ritengono essere sbagliato. Allo stesso modo, visto che loro si autodefiniscono polo della responsabilità, devono essere, non dico complici, però aiutare il Paese, non tanto il governo, il Paese a fare le cose che vanno fatte, salvo poi abbattersi estremamente per quello che ritengono sia giusto. È una linea che condivide? Le sembra una linea ragionevole? Secondo me sì, perché vede, noi non possiamo usare metri diversi a seconda del talk show diverso a cui andiamo a parlare. Se noi diciamo, ed era la sua premessa, era la premessa del rapporto Censis, che il Paese vive in un momento molto difficile, poi lo vedremo, l'Europa, insomma è una crisi certificata, ampiamente certificata e che quindi occorre, come quando si è in guerra, uno sforzo comune per affrontare questa crisi, allora bisogna distinguere la logica e la durezza, la spietatezza del rapporto fra maggioranza e opposizione dalle prove richieste di responsabilità. Se si fa una riforma della scuola, metto per dire, e tutto sommato, con qualche eccezione, ma si è d'accordo che quella riforma vada fatta e poi si passa oltre, non mi stupisco che una parte del centro la voti quella riforma per stare in questi giorni. Senta, quindi il ritorno alle urne che molti danno per scontato, secondo lei non è così vicino? Tutti lo danno per scontato, io credo di essere l'unico a non crederci fino in fondo, secondo me questa storia che si vota a marzo è detta sulla scia del nervosismo provocato dal voto del 14 dicembre. Ma io dico, ma anche l'opposizione, che in genere è quella che chiama le elezioni, a parte che non lo vuole Berlusconi, ma anche l'opposizione forse scoprirà in questi primi mesi del 2011 che non ha molto interesse a precipitare la situazione, lo stesso ha già scoperto ampiamente il Presidente della Repubblica Napolitano. Fini ha detto che resta al suo posto, quindi anche questa idea dello scontro diciamo all'ok corral, in cui uno e due doveva morire, alla fine poi è stato superato dai fatti. Guardi, questo invece, tutto questo si vedrà quando ci sarà la sentenza della Corte Costituzionale sul legittimo impedimento, perché se fosse una sentenza che tutela il Presidente del Consiglio fino a ottobre dell'anno prossimo, secondo me i toni caleranno, no, quella sentenza fra gli altri Berlusconiani se ne vedranno di tutti i colori, si dirà che verrà accusata, ove mai fosse favorevole il Presidente del Consiglio, la stessa Corte Costituzionale di essere corriva col potere. Un cuovo di Berlusconiani, non più di comunisti. Questo non si può dire della Corte Costituzionale, in tutta onestà, però ci saranno polemiche, ma sotto le polemiche, noi dobbiamo abituarci sempre, ma mai come in questa stagione, a leggere tra le righe dei giornali o delle notizie che danno i giornali o delle discussioni che si fanno in sedi come questa. Io penso che più uno si dà l'aria eccitata, più sotto sotto programma qualcosa che non ha a che fare con l'eccitazione. Se mai ci fossero le elezioni, lei ci sentirebbe ancora di fare un endorsement come fece con Prodi, cioè di dire noi stiamo con? Sì. Sì. Crede che la chiarezza sia giusta? Io penso, io ho pagato un prezzo altissimo per quell'endorsement, però penso che nei paesi civili lo si fa, cioè nei paesi civili chi ha responsabilità, come la mia, nei confronti dell'opinione pubblica, si prende l'impegno, ma per chiarezza con i suoi lettori, le persone che lo seguono, di dire con chi sta.